Buonasera a tutti i trader, a tutti gli investitori, Pietro Liglia responsabile del blog Unocchio ai mercati azionari per Trend Online con la nostra ormai consueta rubrica giornaliera dedicata al convento di chiusura sui mercati azionali del vecchio continente. In effetti ci stiamo avvicinando alla chiusura, sono le 17.15 i mercati azionali che dopo le ultime due sedute giovedì e venerdì scorso contassegnate da forti vendite sulla scia di un possibile default della Grecia. Ricordo il calendario di maggio particolarmente impegnativo per il governo ellenico che appunto vedrà tra l'8 e il 15 maggio a scadenza 2,8 miliardi di euro in titoli a breve scadenza mentre il 12 maggio dovrà rimborsare 760 milioni al Fondo Monetario Internazionale e in mancanza di un accordo che dovrà appunto prevedere una nuova iniezione di liquidità e la Grecia dovrebbe avviarsi ad un pericoloso e default. Quindi al momento emesse da parte questi i timori che rimangono sempre sul campo anche perché gli spread continuano a risalire anche nella giornata odierna ricordo il due anni ellenico che è quota vicino al 27% mentre il decennale tratta al 13,03%. Quindi se il mercato dei governativi mostra ancora del nervosismo invece il mercato azionario al contrario è una seduta in inizio settimana contrassegnato da acquisti anche perché il taglio dei tassi cinesi arrivato durante la notte ha detto fiato appunto agli investitori e alcuni listini tengono importanti livelli e supportivi come il DAX gli 11.700 punti e il nostro Futimib la soglia psicologica dei 23.000 punti quindi giornata contrassegnata da acquisti e giornata che ci si avvia appunto all'insegna del rialzo e sul mercato valutario ancora una volta c'è poco da segnalare anche perché il cambio euro dollaro rimane sempre all'interno di questo famoso box tra aria 1,045 e resistenza in aria 1,10 e sarà con la rottura di questo di questo appunto trading range che verrà inviato un importante segnale di acquisto. Andiamo quindi a vedere il nostro indice italiano diciamo all'inizio sono in tempo reale Fuzimib e che si avvia appunto a sette minuti dalla conclusione il rialzo di oltre l'1% ricordo una giornata caratterizzata abbiamo detto dal taglio dei tassi in Cina e che ha dato manforte al settore delle materie prime ma è anche il settore bancario su possibili rumors legati appunto ad accorpamenti all'interno del settore a riportare gli acquisti sul nostro indice principale quindi si tiene l'importante livello dei 23.000 punti ricordo che comunque il movimento odierno si inquadra all'interno di un normale di imbalzo dopo due sedute contrassegnate da forti e vendite saranno le prossime giornate a dirci se il trend di fondo potrà nuovamente partire al rialzo ricordo come al solito importanti le news che arriveranno appunto dalla Grecia per quanto riguarda il mercato azionario segnalo velocemente il titolo Saras che millimetricamente tocca i primi importanti supporti più volte ribaditi nei nostri incontri giornalieri i primi supporti posti in area 1,60 1,61 ex e top di periodo ritornano appunto gli acquisti su questi livelli giornata che si avvia ad essere chiusa al rialzo di oltre il 6% e a questo punto il titolo legato al settore petrolifero rimette nel mirino le importanti resistenze posti in area 1,89 oltre i quali avremmo un importante l'importante target posto sulla soglia dei 2 euro cambiamo il settore e andiamo nell'assicurativo con il titolo cattolica che rimane all'interno di questo ottimo trend rialzista anche qui sfruttare le prese di beneficio sfruttare appunto le debolezze di breve per rientrare su questo titolo che avrebbe appunto un prossimo target posto in area 8,70 8,75 top degli ultimi mesi e a seguire i 9 euro ricordo sempre chi fosse interessato al servizio di report e segnali operativi basta consultare la pagina premium trend online e scrivere una mail che avete sullo sfondo ma più semplicemente cliccare in alto l'icona a destra che vi porta la pagina lancio legata al servizio di report e segnali operativi non solo sulle blue chip 40 ma anche sulle mid cap un servizio intraday ma soprattutto multiday non solo con l'uso delle mail ma anche degli sms quindi in tempo reale ore 17 e 19 minuti primi indice che continua il suo rialzo e quindi ci avviamo a chiudere in terreno positivo in area 23.290 23.300 punti l'appuntamento è domani sera ancora una volta buona serata buon trading e a presto